Qualche brivido perché vorrei dire che, e non lo dico affatto per minimizzare la gravità dei fatti di Allumiere, ma che noi viviamo nella Repubblica di Allumiere, che la cosiddetta politica rappresentata purtroppo da questi partiti, e sto parlando di tutti, che sono diventati tutto eccetto che delle organizzazioni politiche sono delle macchine clientelari potentissime che non decidono soltanto le nomine di qualche funzionario di Allumiere, ma decidono anche le nomine di Rai, dei manager, e tutto con lo stesso criterio nepotista clientelare. Questa è la morte della politica. Scusami, se mi dai un secondo, voglio fare una cosa commovente. Lei si commuoverà bene, ma mi commuovo io. Questo qui, io vado per banchetti di antiquariato, di modernariato. Questa per me è politica. Questa è una tessera del PC, non mia, del 1955, mio anno di nascita. Questa tessera è di un signore, che spero sia ancora vivo, non lo conosco, che si chiama Genova Sebastiano Fu Giuseppe, e di lavoro faceva l'ambulante, quindi non il manager, l'ambulante. Questo signore ogni mese sulla tessera metteva un bollino e lo pagava, lire 50, dal suo penso scarso compenso. Cosa significa questo? Questa è politica. Perché questo signore non andava nel PC, in questo caso, per piazzare suo nipote, suo figlio, suo cognato o se stesso. Andava per un ideale ed era disposto, e dava così un input politico fortissimo, al sacrificio, anche economico, suo. Non cercava prebende, cercava cambiamento, cercava passione, idealità, voglia di cambiare questo paese. Guardi, la sorprenderò, ma io mi commuovo, esatto, anche se quello non è il mio partito, per un motivo molto semplice. L'idea dovrebbe guidare le nostre gambe. Purtroppo non è più così. Io provo a farlo. Alcuni provano a farlo. Nove candidati.